Buonasera, Shavuotov, carissimi amici, sono sei settimane, buonasera, Shavuotov, sono sei settimane e un giorno dall'incidente. E chi non crede in miracoli deve guardare alla mia faccia. E' miracoloso e non è da credere. Non c'è una cicatrice, non c'è assolutamente niente. E non ho niente sopra. Allora quello che vedi sono io. Tutto è un dono. E tutti i miracoli che succedono ogni giorno sono doni. Tutte le leggi sono doni. E le leggi della parasha Mishpatim avrò nuovi occhiali. Questa è l'unica differenza che gli occhi non stanno molto bene. Ma non importa. Tutto è perfetto. Se si prende questa parasha, questa porzione, che è Torah, dato a Mosè, a Sinai, e allora tu leggi quello che dice, allora tu pensi che sei in una scuola e stai studiando le leggi civili del 2022. Perché le cose non si sono cambiate. Ma dobbiamo sapere che le leggi dell'uomo sono le leggi di Dio. quello che abbiamo aggiunto è una cosa. Quello che Hashem ci ha dato è la base di tutto quello che è umanità. Dall'altra parte, non voglio leggere le leggi, ovviamente. Voglio prendere concetti che sono importanti delle leggi. mettiamo che faccio la sintesi e dopo prendo concetti. La Kabbalah per questo, per questa porzione, parla di cose molto molto diverse che hanno da fare con la transmigrazione delle anime. Vi voglio dire che ho preso un pezzo, l'ho tradotto e vi faccio sapere alla fine. e sto pensando che magari dovrei iniziare con il Salmo, ma facciamo diverso. Entriamo nelle leggi e dopo vediamo come andiamo avanti. Allora, leggi civili. La sintesi del Khumash Mamash. La parasha espone un gran numero di leggi civili concedenti ad esempio i doveri nei confronti degli schiavi, delle persone a cui si arrecca danno fisico o materiale, delle vergini, delle vedove e degli orfani. Leggi civili. Ovviamente il mondo non può vivere senza legge. Anche gli animali non possono vivere senza leggi. La loro legge è vivere e lasciare sopravvivere e solo uccidere quando tu hai bisogno. Quella è la legge dell'animale. Noi siamo diversi. Abbiamo adesso, abbiamo vissuto una settimana molto difficile con il giorno della memoria. E quando si tratta di parlare della memoria, anche la Torah è una memoria. E quando si tratta di parlare di Torah, si sta parlando di oggi, come si tratta del 27 di gennaio, che era due giorni fa. Ma si parla di oggi. E dovremmo parlare di queste cose ogni giorno. perché le leggi e quello che è il nostro vivere insieme nel mondo dipende da come noi vediamo le leggi di Dio. Allora, la buona condotta. E' interessante notare che i Dieci Comandamenti sono immediatamente seguiti proprio delle leggi che concernono i rapporti legali fra l'uomo e il suo prossimo. Ciò si basa sul principio secondo il quale la buona condotta precede la Torah. Rabbi Mendel Di Kotzk diceva che la buona condotta è l'introduzione alla Torah, così come l'introduzione di un libro fa capire al lettore quale sia il contenuto generale. Dal comportamento di un uomo si può capire quale e quanta Torah ci sia in lui. E quello non è un discorso ebreo o non ebreo perché la Torah è la base di tutto. E allora, come una persona si comporta dal punto di vista prossimo e come si comporta con il mondo, e il mondo è il mondo ovviamente largo e il mondo vicino a lui, quello dice quanto dei Dieci Comandamenti, che sono base di tutto, lui accetta e si condotta la vita molto 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 difficile, molto difficile perché purtroppo oggi non pensiamo a queste cose. tre mila anni fa, che cosa ha da fare con me? Tutto. I saggi insegnano che il mondo esisterà per sei mila anni e durante questo tempo si lavorerà proprio in questo mondo è data la possibilità di servire Hashem con la Torah e le buone azioni. Allora, al settimo anno, ossia al settimo millennio, uscirà in libertà gratuitamente, ossia il popolo ebreo si libererà da tutti i vincoli e da tutto ciò che cela la luce divina e godrà delle più eccelse rivelazioni dell'epoca messianica. Così dice il Rebbe di Lubavitch. Perché? Perché il schiavo, lo schiavo, lavora per sei anni e il settimo anno è lasciato libero. E i saggi prendono questo come sei millenni e nel settimo viene il Messia. Allora noi siamo a cinquemila settecento e ottantadue. Siamo molto, molto, molto vicini. Le legge numero due, custodi. Le legge relative al custodi retribuiti e non retribuiti e quali doveri ha ciascuno di loro. Segue l'esame della casistica concernente il prestito o l'affitto di oggetti o animali, restituzione di oggetti smariti. Tutto è giusto come noi sappiamo, ma non facciamo. Quello vuol dire che con tutta la corruzione che c'è nel mondo, con tutto quello che le persone si permettono di fare, con tutti i furti, grandi o piccoli, che ci sono, come una persona può essere religiosa, tra virgolette, o creente, quando fa male e quando prende da un amico. Come è possibile di fare una cosa del genere, ma tu vai in sinagoga o tu vai in chiesa almeno una volta alla settimana, ma quando esci fuori vai a fare male. Come è possibile di fare una cosa del genere. Come è possibile di fare una cosa del genere. La Torah insegna all'acquirente che l'uomo da lui acquistato non gli apparterà, essendo già schiavo di un altro padrone. Il padrone del mondo è come tale dovrà trattarlo con il dovuto rispetto. Questo vuol dire, in parole semplici, il fatto che qualcuno ha lavoro per te, il fatto che tu lo paghi, il fatto che è un impiegato di te. Eh, quello non vuol dire che tu non lo devi trattare con rispetto. Conosco abbastanza persone che pensano che una persona che lavora per loro è seconda classe. Proprio no. La parola grazie e la parola prego sono cose non dovute a una persona qualsiasi. alla persona, a tutti. Questa parola o queste parole sono parole di vita e le legge di uno all'altro e come si comporta uno con l'altro sono legge. Non sono decisione che tu fai per me o io faccio per te. Regole monetarie, concetti generali, legge riguardando l'anno sabatico, lo shabbat, i peregrinaggi, e la separazione tra carne e latte. E allora, l'anno sabatico sono sei anni, il settimo anno il sabatico. Siamo adesso in un anno sabatico. E quello vuol dire shabbat, sabato, alla terra. Shabbat, Hashem dice, non la prima volta che voi lo sapete o io parlo di questa cosa, che il shabbat non è una decisione tua, ma il shabbat è una legge. Una legge che Dio ha dato all'ebreo perché lui capisce che cosa vuol dire il lavoro di Hashem che ha creato il mondo in sei giorni e il settimo giorno. Lui ha riposato. E lui ha dato a noi il riposo perché lui ha fatto il riposo. E ovviamente nel suo pensiero sa esattamente quanto è necessario che sia shabbat. Sono quasi arrivato al punto dove i miei amici sanno che sabato non prendo il telefono. Adesso stiamo lavorando su quando inizia shabbat. Così i poverini non mi chiamano e io non rispondo. Allora tramonto è l'inizio di shabbat è venerdì. E sabato tramonto plus un'ora è finito shabbat. Io vi devo dire ma veramente lavoro come tutti moltissimo. Ma nel momento che inizia, nel momento che chiudo, nel momento che accendo le lumi, il mio sistema, il mio corpo, la mia mente, il mio cuore, la mia anima, si cambia. Non lo so, magari un anno fa ho scoperto perché questo succede all'inizio di shabbat. Perché shabbat noi prendiamo una seconda anima e quella un'anima divina che rimane con noi tutto il shabbat. E io ho capito, magari sei, otto mesi fa, dieci mesi fa, una cosa del genere, ma non da tanto tempo. Perché mi sento così diverso quando entra shabbat e quando accendo i lumi. completamente finisce tutto. Non penso né al computer dopo quattordici ore al giorno del lavoro, computer e telefono. Niente, niente. Sono i miei libri, ci sono i miei pensieri della Parachan. Ma le parole di Hashem, la Kabbalah, i salmi e basta. Non ci penso assolutamente a nient'altro. Ed è questo che voleva Hashem. E lui dice, lui dice, è necessario che tu lo fai perché io lo faccio. Allora per avere i pensieri si deve avvicinarsi a Dio, per capire il perché di tutte le cose. Si parla di dare ai poveri, di dare carità. E quello fa parte della legge a come comportarsi. E allora Kliaka dice, uomo deve dare Zdaka, carità, fino al tramonto, cioè finché è in vita. Poiché essa, la carità, è il suo unico indumento dopo il tramonto. Infatti, non ha altro indumento per coprire l'anima se non la carità. Come dice, ho indossato giustizia. Se invece non dovesse compiere questa buona azione, con che cosa si coricherebbe? Con quale merito si vestirà quando sta nella tomba? E allora Zdaka, carità, non è un se tu vuoi o non vuoi, come Shabbat. Se tu vuoi o non vuoi, legge. Il percentuale è legge. Se tu vuoi oltre, queste sono le tue buone azioni che verranno con te quando tu non hai più niente di quello che abbiamo. Allora, le buone azioni sono quelle che rimangono con te quando non c'è nient'altro. Fra menzogna e verità. Ti allontrerai dalla falsità. Riguardo a nessun'altra transgressione, la Torah parla di allontamento. Non c'è un'altra cosa scritta nella Torah, ma qui c'è. Hashem, infatti, aborisce talmente la menzogna e la falsità da ingiungerti a mantenere le distanze anche da ciò che può solo sembrare una menzogna. L'espressione può essere anche interpretata così dalla falsità. A causa della falsità ti allontanerai da Hashem. In altre parole, e parole molto povere, nel momento che qualcosa ti puzza sotto il naso di falsità o di menzogna, allontanati immediatamente, perché la legge dice così. E se tu sai che qualcuno ti fa male o qualcuno non dice la verità o qualcuno fa del male all'altro, allontanati perché Dio dice così. La Mishnah insegna il profeta Eliau e la Elia. Non verrà che per allontanare i vicini con il braccio è avvicinare i lontani con il braccio. Rabbi Avram di Radomsk spiega Lettere che compongono la parola emet, la verità, Sono più lontane fra loro nell'alfabeta Alef la prima e Mem la mediana e Teth, Taf e Taf l'ultima. Le lettere che accompagnano la parola shaker, falsità, invece, si susseguono. I saggi spiegano che quando verrà il Messia, i lontani si avvicineranno, poiché il mondo sarà tutto di verità, mentre i vicini, la menzogna, la parola shaker, saranno allontanati. Brillante, proprio brillante. Ma Dio sa tutte queste cose e quello vuol dire anche se tu pensi che Lui non ti sta guardando, sappi che quando Lui ha detto e quando Lui ha chiesto a Mosè di venire da Lui e solo Lui e non il suo fratello e non il suo allievo e non Arone, i figli di Arone, ma solo Lui e quando Lui ha detto adesso vieni perché adesso ti insegno 40 giorni sul Sinai, lui sapeva a chi invitare, perché Mosè, il Mosè era tutto per il popolo ebraico. La guida, un fratello, famiglia, Lui era tutto. E Hashem voleva insegnare a Lui perché Lui insegna a noi. E le parole della Torah e le parole di Hashem sono quelle che sono in eternum. E quello vuol dire che le sue promesse e disposizioni scritte, a Shem promette al popolo la terra di Israele, vietandoli tuttavia di lasciarsi trascinare dall'idolettria e ingiungendoli di distruggere qualunque segno. Primo comandamento. Io sono il tuo Dio, non devi avere altri Dei accanto a me. Le parole non sono solo parole. Ma Hashem dice, la mia promessa è questo. Se tu fai questo, se tu non fai questo, allora tutto si cambia. Io vi posso dire quante cose ma non le dico. Ma le ho tutti dentro perché sono cose che magari nel contesto non vanno a essere capite. Allora non le dico. Il patto che Hashem stringe con il popolo ebraico, che accetta di osservare la legge ancora prima di venire a conoscenza. Siamo al Monte Sinai. Le legge vanno detto immediatamente dopo i Dieci Comandamenti, come abbiamo sentito. il popolo. Il popolo dice, Noi faremo e ascolteremo. Allora fare prima di attualmente sapere. La legge ancora prima di venire a conoscenza. Mosè sale sul Monte per ricevere le tavole della legge e vi rimane per 40 giorni e 40 notti. Fine della parasha. Eseguiremo e obbediremo. L'espressione in ebraico Eseguiremo il valore numerico di 891. Lo stesso numero numerico, lo stesso valore numerico, come Yetziat Mitzrayim, la uscita dall'Egitto. Lo scopo dell'Esodo era che gli ebrei pronunciassero queste parole dichiarando di accettare la Torah. Allora Hashem gli ha portato fuori dell'Egitto, fuori della schiavitù. Ha scelto il popolo di essere il suo popolo, di accettare la sua legge, la sua Torah. E il popolo, dopo tutto quello che hanno visto e tutto quello che Hashem ha fatto per loro e tutti i miracoli che erano parte, hanno detto Eseguiremo e obbediremo. Na'ase in ebreo esatto vuol dire fare, faremo. Nishma, shmiya, ascoltare. Allora facciamo e ascoltiamo. Difficile questo, eh? Molto difficile. Ma il popolo era insieme. Erano come un'anima. Quando hanno detto Quando hanno detto Quando erano al Sinai Quando Mosè era di fronte Quando Hashem si è rivelato Na'ase venishma Musè va nel Sinai Entra dentro la nube E sta con Hashem Quaranta giorni E ovviamente E ovviamente Impara 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 Il popolo Il popolo Il popolo È passato E purtroppo siamo tutti peccatori Ma quando la Torah Che è stato scritto due mila anni prima Di quello che Hashem ha dato la Torah al popolo Quando la Torah ha sentito Che Hashem va a dare La Torah al popolo ebraico La Torah ha detto ma perché Tu sai che loro vanno a pecare E vanno a disdire E non vanno a fare Shabbat E non vanno a fare l'anno sabatico E non vanno a prendere le leggi che tu gli dai Non vanno a ascoltare la Torah E Hashem ha detto Non ti preoccupare Io Ho già messo qualcosa dentro E quello è Teshuba Il ritorno Allora la Kabbalah parla di transmigrazione Tutto un capitolo Ma una delle più potenti Dal punto di vista kabbalistico Perché La transmigrazione delle anime È una cosa che Dipende Dalla vita Che fa l'anima Su questa terra E sia che noi siamo tutti pecatori E allora Noi dobbiamo Sapere Che anche se noi Facciamo peccati In questo In questa vita C'è La possibilità Per noi E allora Sia che Kabbalah Mishpatim La porzione Mishpatim 106 A B Parla di questa cosa Io ho deciso Di portarla A voi Poiché Ha rimediato Alla sua Precedente Omissione È ricevuto Dal santo re Che lo riporta Nella posizione Da lui Destinata Allora Allora L'anima Ha un destino Prima Che viene Nel mondo E Poiché Ha rimediato La sua Precedente Omissione È ricevuto Dal santo re Che lo riporta Nella posizione A lui Destinata È chiamato Un pecatore Pentito Perché Entra Nell'eredità Del suo posto Originale Nel fiume Celeste Che scorre Perenne Che è la fonte Di tutte le anime Non c'è Ostacolo Al mondo Che possa Ostacolare La via Del pentimento E la parola Da solo Contiene Una allusione Della frase Sul dorso Del luoghi Più alti Della città Vale a dire Come la sapienza Dimora In luoghi Alti Così L'uomo Che si Pense Che si è pentito Del suo Peccato Raggiunge Una posizione Eminente Quindi I peccatori Che si pentano Raggiungono E sono Amessi In posti Dove anche I perfettamente Giusti Non sono Amessi Sicuramente Il santo Accetta Ogni Pecatore Che si Rivolge A lui Un tale Emesso Sulla via Della vita E nonostante La sua Precedente Macchia Tutto E' Aggiustato E' Riportato Alla sua Posizione Precedente Anche Quando Il santo Ha decreto Molto Solenemente Contro Una Persona Egli Perdona Interamente Dove C'è Un Perfetto Pentimento Così Troviamo Scritto Riguardo A Joachim Come E' Vero Che Io Vivo Dice Il Signore Se Tu Cogna Figlia Di Joachim Avesse Il Sidillo Della Mia Destra Tuttavia Io Ti Strapperei Di Qui Scrivi Tu Quest' Uomo Senza Figli Questo Voi Non Capite Ma Quello Che Voi Capite Sì E' Il Fatto Che E' Possibile Che Tu Hai Fatto Fino Ad Oggi Una Vita Che Non E' Accettabile Per Nessun Motivo Non Hai Fatto La Pasqua E Non Hai Fatto Shabbat E Non Hai Fatto La Festa Della Della Capanna E Non Hai Fatto Roshoshonai Nuovo Anno E Non Hai Fatto Yom Kippur Non Hai Fatto Niente Ma Fai Teshuva Fai Una Ripetenza Ma Veramente Dove Tu Non Non Dici Le Parole Ma Fai E Studi E Impari E Fai Le cose Come Vuole Hashem Perfezione Non C'è Noi Sappiamo La Via Del Signore La Via Di Hashem È Assolutamente Non Facile E Ci sono 613 Comandamenti Nella Nella vita Non è Possibile Perché Tanti Hanno Da Fare Con Il Tempio Che Non Esiste Ma Se Tu Se Tu Decidi Di Prendere I Dieci Comandamenti E Mettere Questi Dieci Comandamenti Di Fronte Alla Tua Visione Vitale Ed È Questo La Via E Tu Fai Dieci Comandamenti Non Hai Forto Non Hai Rapina Non Hai Guerra Non Hai Odio Non Hai Menzogna Non Hai Problemi A Casa Tutta La Vita Si Cambia Difficile Da Accettare Ma Quello È La Verità E I Saggi I Cavalisti I Rabbini Anche Rabbini Di Oggi E Ci Sono Non Molti Ma Pochi Ma Ci Sono Che Vanno In Questa Strada E Seguono Questa Strada E Non È Un Discorso Italiano O Israeliano O Tedesco O Ingles La Torà E La Torà C'è Una Quando Io Sono Arrivate In Italia La Prima Cosa Mi Hanno Detto La Torà In Italia È Diversa Ci Sono Abitudini Diverse Tu Devi Accettare Io Ho Detto Scusami La Torà È Una Non È Aschina Zita E Non È Sfaradita Ma È Una E Quelle Sono Le Parole Di Hashem E Sono Quelli Che Noi Dobbiamo Imparare Accettare Obedire E Vivere Na Ase Venishma Noi Faremo E Noi Obederemo Il Salmo 17 È Difficilissimo Una Persona Non Dovrebbe Mai Ritenersi Troppo Sicura Della Propria Capacità Di Resistere Alle Tentazioni Davide Davide Stesso Chiese Al Signore Di Metterlo Alla Prova Ma Falle Una Persona Che Pensa Che Lui È Infalibile Che Tutto Quello Che Fa E Tutto Quello Che Pensa E Tutto Quello Che Mette Fuori Al Mondo Io Conosco Tante Persona Che Sono Così Conosco Tanti Ma Purtroppo È Giusto L'opposto E Il Re Davide Dice Io Non Ho Superato La Prova E Quindi Tu Non Mi Hai Trovato Privo Di Colpe Il Re Davide Il Re Davide Non Penso Che Nessuno Si Può Paragonare Una Preghiera Di Davide O Eterno Ascolta Il Giusto Si Attento Si Attento Alle Mie Implorazioni Porgi L'orecchio Alla Mie Preghiera Pronunciata Dall'abbra Prive Di Indanno Possa La Mia Sentenza Provenire Direttamente Da Te Possono I Tuoi Occhi Vedere La Mia Correttezza Tu Hai Esaminato Il Mio Cuore Lo Hai Scrutato Nella Notte Mi Hai Messo Alla Prova E Non Hai Trovato Ciò Che Ti Aspettavi Possa Tale Mia Immodestità Non Varcare Più La Mia Boca Dopo L'episodio Di Baceva Davide Si augurà Di Non Esprimere Più L'arrogante Affermazione Di Essere Privo Di Colpe E Di Essere Disposto A Qualsiasi Prova Ci Siamo Abbiamo Capito E Allora Affinché Le Mie Azioni Umane Potessero Conferm Conformarsi Alle Parole Delle Tue Labbra Io Mi Sono Guardato Dal Seguire Sentire Del Violento Rinzala I Miei Passi Nel Procedere Nelle Tue Orme Così Che I Miei Piedi Non Vasiliano Ora Io Ti Ho Invocato Perché Tu O Signore Mi Dai Risposta Porgi A me Il Tuo Orecchio Ascolta Quanto Dico Frena La Tua La Tua Grazia Tu Che Salvi Chi Cerca Rifugio In Te Da Coloro Che Insorgono Contro La Tua Destra Abbi Cura Di Me Come La Pupilla Dell'occhio Nascondimi Alla Ombra Dei Tue Ali Proteggimi Dalli E Dalli Empi Che Mi Opprimano Dai Nei Nemici Mortali Che Mi Hanno Accerchiato Il Loro Grasso Gli Ha Resi Ottusi Pertanto Con Le Loro Bocce Parlano Con Arroganza Ora Ci Accerchiamo Accerchiano Seguono I Nostri Passi Chi Purtanto Adossa I Loro Occhi Per Farci Cadere A Terra Il Suo Aspetto Sta Parlando Di Saúl Assomiglia A Quello Di Un Leone Che Brama Di Laniare La Sua Preda O A Quello Di Un Leoncello Che Sta Ne Nascondigli Sorgi O Eterno Affronta Apparentemente Mettilo In Ginocchio Scampa La Mia Vita Del Malvagio Tua Tua Spada Possa Io Far Parte Dei Morti Per Mano Tua O Eterno Ed Essere Tra Coloro Che Eterno Muoiono Muoiono In età Avanzata La Cui Eterna E Il Cui Ventre Tu Colmerai Dei Tuoi Tesori Essere Tra Coloro Che Sono Sazzi Di Bravi Figli E Lasciano La Loro Agitezza In Eredità Ai Loro Piccoli Quanto A Me Con La Mia Rettitudine Contempierò Il Tuo Volto Mi Sazierò Al Mio Risveglio Della Tua Visione Si Può Decidere In Un Attimo Di Cambiare Si Può Alzarsi Nella Mattina Un'altra Persona Si Può Guardare Al Passato Della Vita E Dire Io Ho Sbagliato Ho Fatto Delle Cose Non Giuste Mi Sono Persa Nella Strada Si Può Si Può Dipende Della Della Tua Volontà Dipende Da dove Vuoi Arrivare Tu Ascenti Da Tutte Le Opportunità Come Abbiamo Visto Per Pentirti Di Quello Che Hai Fatto Di Quello Che È Successo Di Quello Di Quella Strada Che Hai Preso Dipende Da Te Dipende Da Te Se Tu Torni Alla Strada Della Tua Anima Che È La Strada Che Hashem Aveva Disegnato Per Quell' Anima O Se Devi Tornare E In Che Modo Torni Decisione Tua Tutta Dentro La Tua Vita Se Vivi Con Verità È Una Cosa Se Vivi Con Menzogna È Un' Altra Hashem Ti Dà Tutte Le Le Cose Ogni Momento Di Ogni Giorno Fino All'ultimo Momento Della Tua Vita Lui Distrugge Tutto Quello Che Hai Fatto E Ti Accetta Ma Non Il Discorso Oggi Si Domani No Magari Questo Magari Quell'altro Magari Mangi La Pesce Spada Invece Di Non Mangiarla E Dire Mi Dispiace Così Tanto Ma Non È Cacher Non La Posso Mangiare E Con Questo Cambiare Tutto Il Discorso Ma Non È Che Tu Puoi Decidere Oggi Faccio Questo Domani Faccio Questo È Quello Non È Teshuva Pentimento Sincero È Tutta Un'altra Cosa È Scenti Dà La Possibilità Di Decidere Di Farlo O Di Non Farlo Di Seguire O Non Seguire Di Ascoltare E Obedire O No Io Prego Di Sì E Io Vi Benedico Come Ogni Settimana E Ogni Giorno E Spero Che Il Giorno Della Memoria Non È Passato Solo Come Un Giorno Ma È Passato Con Un Pensiero E Con Con La Capacità Di Capire Che Il Nostro Mondo Deve Cambiare Per Queste Cose Non Di Succedere Mai Più Ricordare E Non Dimenticare Mai Io Ringrazio A Tutti A Tutte Le Persone Che Mi Stanno Vicino Che Hanno Dato Così Tanto Al Concorso Il Concorso Che Non Ha Avuto Uno Sponsor Ebreo Che Non Non È Stato Non è Stato Preso In Considerazione Da Nessuno Della Della Comunità Ma Che Presenta Che Presenta Con tutto il cuore E con tutto E con tutto L'anima Delle persone Che hanno Lavorato E hanno Dato Così Tanto E hanno Sostenuto A me In questo Camino La seconda Volta La prima Volta Era un po' Diverso La seconda Volta Era molto Più Difficile Ma Molto Molto Più Forte E L'assessore Della pubblica Instruzione Di Reggio Calabria La dottoressa Lucia Anita Nocera Ha Già Presentato A me La possibilità Per l'anno Prossimo Nel terzo Nella terza Edizione Con l'aiuto Di Dio Di far La Presentazione E la Premiazione A Reggio Calabria La mia Città Adottata Carissimi Amici Statemi Bene Benedizione Una Buona Settimana Shavuot Mede Adottow Epace Grazie.